Avete voglia di cantare con noi? Io sono Hannah e lui è Dino. Ciao a tutti! Mettiamo in palio 100 dollari in contatto. Scegliamo i concorrenti. Mi piace già il ragazzo. È così che si canta Crash Karaoke. Faremo irruzione e vi daremo il bigliettone. Chi vuole giocare? Dovrei essere solo pronto a cantare. Scegliamo i concorrenti.